questi primi giorni di aprile del 2022 sono marcati da una forte instabilità su tutta l'italia qui mi trovo sulla costa di renica all'altezza di funicino ostia e il martirreno in questi momenti c'è una forte mareggiata perché ci sono forti venti da ovest ecco in tutta l'italia in queste ore in questi primi giorni di aprile abbiamo assistito a forti piogge grandinate neve anche a quote relativamente basse e a temperature più invernali che primaverili ecco nei prossimi giorni questa situazione dovrebbe cambiare dovremo andare incontro a una maggior stabilità meteo e anche a un nuovo innalzamento delle temperature seguiteci su meteo red italia come sempre con i modelli gli aggiornamenti per sapere come evolverà la situazione meteo